Melilli, il Comune avvia il progetto di rinascita di Marina di Melilli. Anche Marina di Melilli ha messa al finanziamento nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Ministero dell'Interno denominata Spiagge Sicure 2021. Un contributo importante che si somma agli interventi già programmate dall'amministrazione comunale che mirano a fare rinascere uno dei luoghi più suggestivi del territorio. La rinascita di Marina di Melilli è uno degli obiettivi che ci siamo posti come amministrazione con interventi mirati per la riqualificazione dell'intera area comunale e la pulizia con la recensione delle aree di proprietà del Comune e la nascita di un'area per i bagnanti, dichiara il Sindaco Giuseppe Carta. A questi interventi si aggiunge il finanziamento del Ministero dell'Interno per il progetto Spiagge Sicure 2021. Marina di Melilli è una delle tre spiagge della provincia di Siracusa finanziata dal Ministero per questo importante progetto sulla sicurezza. Una serie di iniziative a tutela dei bagnanti e di tutti i frequentatori di Marina di Melilli, incentrata sulla lotta all'abusivismo e che prevederà l'installazione del sistema di sorveglianza capace di garantire un più rigoroso monitoraggio degli eventuali comportamenti illeciti che dovessero riscontrarsi sul nostro litorale. Una marina di Melilli pulita, sicura e funzionale, ha concluso il Sindaco e sicuramente un regalo a tutti i nostri concittadini, ma anche un biglietto da visita importante per veicolare e innalzare ulteriormente la qualità dell'offerta turistica del nostro meraviglioso territorio.